L'omicidio di Marina Luzia Fossombrone e di Concetta Marruocco Cerretodesi rappresentano gli ultimi due femminicidi avvenuti nelle Marche, entrambi nel 2023. Punta dell'iceberg di un fenomeno, quello della violenza sulle donne, che in regione è in costante crescita, come certificato dal rapporto sulla violenza di genere deliberato dalla Giunta questa settimana. Sono state infatti 705 le denunce ricevute dai centri di violenza regionali nel 2022, 42 in più rispetto all'anno prima a conferma di denunce più che raddoppiate nell'arco di dieci anni. Più di 700 denunce, 208 delle quali certificate anche da referto di diagnosi di violenza al pronto soccorso. Di queste, 10 sono risultate minorenni. Fotografia di un fenomeno in cui la provincia di Pesaro Urbino incassa il numero più alto di denunce, ovvero ben 245. Fenomeno in cui in un caso su tre il molestatore, il coniuge o comunque una figura interna all'area domestica è la vittima in tre casi su quattro, a un'età compresa tra i 30 e i 60 anni. Dati che continuano a delineare un quadro preoccupante a poco più di due settimane dal 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.